Siamo in prossimità di chiusura di gioco, al numero uno Luster SF, Simone Ammannati, al 2 MRA, AMB, Sandro Gori, 3 Papaglione, Cam, Federico Cortesi, 4 Psicherab, Gianfranco, Kersbaum, 5 Pravda, De Greppi, Monica Arradi, 6 Neru, De Greppi, Nicola Del Rosso, in seconda, 7 Noodles, BF, Filippo Monti. Benissimo. 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 Benissimo.